salve ragazzi e ragazze e qualsiasi altra cosa e persona benvenuti in questo nuovo video dello scrivacchino in questo momento sono le 11 di sera esattamente le 11 proprio spaccate in questo momento fuori piove come dio la manda e potrebbe esserci benissimo un assassino fuori che sta sfruttando il favore delle tenebre dell'umidità per avvicinarsi e colpire inoltre io sono completamente raffreddato ormai è 10 giorni che c'ho mal di gola tosse e raffreddore e non finisce più e continua a piovere e continua a farmi male le ossa le articolazioni quindi non è proprio il momento in cui sono al massimo più performante per fare video ma forse invece è il momento migliore per fare questo specifico video perché oggi vorrei riparlare di mitologia ho fatto qualche video in passato e parlo interrotti perché non non sembrava che ci fosse tantissimo interesse nei confronti di questi video ma come altre serie che hanno rifatto capolino anche per la mitologia è arrivato il momento di riapparire sul mio canale e avrei potuto parlare di mille cose avrei potuto parlare di altre divinità avrei potuto parlare di miti specifici greci avrei potuto spaziare su altri tipi di mitologie che ho trattato in forma di short nel corso degli ultimi tempi avrei potuto parlare di quella norrena di quella nativa americana di quella egizia di quella giapponese cinese di quella che volete ma per riaprire queste rubriche volevo fare qualcosa di un pochino di diverso volevo stare con voi e volevo spiegarvi perché amo le persone perché amo voi avete presente quella vignetta di superman che guarda verso il pianeta e dice i love you ecco ogni tanto io mi sento così perché per quante cose disgustose possa fare l'umanità per quante cose orribili possiamo fare con la nostra intelligenza per quanto possiamo spegnere la nostra empatia per quanto possiamo allontanarci da ciò che ci rende umani è anche vero che di tanto in tanto la nostra umanità fa capolino di tanto in tanto la nostra umanità spunta timida ed è carino quando succede ok com'è carino vedere le persone che si mettono a ballare insieme quando comincia la musica com'è carino vedere come una persona reagisce quando vede un gatto che si stira sull'erba e prova ad accarezzarlo ma ha paura che scappi quel momento di paura e timidezza prima di accarezzare un cane che si avvicina che brevi cenni di assenso che facciamo nei confronti delle persone quando le incontriamo quel breve cenno per dire si riconosco la tua esistenza ebbene c'è una parte della natura umana che io adoro e che c'entra proprio la mitologia greca nell'ultimi tempi infatti nei ultimi anni ho visto cresciuto interesse nei confronti della mitologia greca alcuni miti dimenticati da tempo sono stati ripresi riportati in auge a giorni d'oggi sono stati rivalutati sono stati visti in chiavi diverse e hanno popolato la nostra immaginazione in particolare ci sono due miti che oggi vengono visti da molte persone in modo diverso rispetto a come venivano visti magari vent'anni fa nello stesso periodo in cui io questi miti li ho scoperti a scuola ad esempio e trovo molto interessante questo il primo mito è quello di medusa ora il mito di medusa che forse voi conoscerete comunque perché medusa è un personaggio estremamente popolare nella sua fisionomia questa donna a cui chioma è composta da serpenti con lo sguardo in grado di petrificare e che è stata sfruttata a lungo e largo e media di ogni tipo quello di medusa è un mito che spesso venne conosciuto tramite solo il suo epilogo o meglio è così che l'ho conosciuto io con l'eroe perseo che sconfigge la terribile medusa durante il suo cammino ma questa è solo la fine del suo racconto e non l'inizio non sono un grande fan di questa spiante narrativa soprattutto se non viene raccontata poi in seguito la sua storia è una cosa che ho notato quando sono stato in tunisia due anni fa infatti ho avuto l'occasione di andare a visitare dove sorgeva cartagine e ho avuto modo di ascoltare i racconti le spiegazioni di una guida locale che parlavano della storia della cultura di cartagine prima dell'incontro con roma della lunga storia di commercio e molto altro e ho trovato molto curioso come cartagine appaia spesso nel curriculum scolastico come un mero ostacolo per roma come un mero elemento delle guerre puniche che appare solamente per far sembrare ancora più forte roma per farla trepidare per farla arrivare vicino alla sua sconfitta ma per poi portare avanti verso la sua vittoria con scipione l'africano ma cartagine c'era anche prima e cartagine insomma una forma di cartagine c'è stata anche dopo e allo stesso modo medusa la storia di medusa non inizia con teseo può finire con esso una fine che lascia un po l'amaro in bocca se conosciamo il mito effettivo di medusa delle gorgoni però non inizia in quel modo e come inizia la storia di medusa beh dipende dipende chi racconta questa storia il mito in particolare quello greco ma in generale il mito varia di persona in persona ognuno ci mette qualcosa di sé ognuno sceglie la versione che preferisce che magari risuona meglio all'interno di se stessi e medusa effetti ha diverse origini nella teogonia di esiodo ad esempio medusa nasce già con la sua forma mostruosa con i capelli serpentini dall'unione del dio primordiale forco con sua sorella ceto in questi casi medusa spesso affiancata dalle sorelle e l'aspetto di medusa può cambiare a volte vengono descritte come queste donne veramente mostruose che oltre ai capelli di serpenti hanno zanne suine che emergono dalle loro labbra hanno mani di bronzo e ali di uccello ali dorate ma anche questo aspetto qui cambia dipende dall'artista che l'ha voluto raffigurare in altri casi la gorgone e sue sorelle hanno un aspetto invece più bello sono donne bellissime per quanto ferale a causa del loro chioma e in parte probabilmente questa varietà nel suo aspetto è dettata anche dall'altro mito della sua origine infatti secondo alcuni come nelle metamorfosi di un idio medusa non nasce come mostro nasce come donna bellissima e purtroppo le donne bellissime ma neanche quelle bellissime le donne in generale gli esseri umani sono sempre stati vittime della gelosia della bramosia degli dei i dei che vogliono fare bello a cattivo tempo con noi e così sembra aver fatto poseidone dio dei mari che dopo aver visto medusa coglie il suo fiore senza permesso nel tempio di atena dove lei era una sacerdotessa ovviamente questa è solo una delle tante versioni di questa storia però è quella che negli ultimi tempi è diventata sempre più comune e sempre più conosciuta perché perché di fronte a questo evento mentre medusa diventa una vittima dei desideri carnali di un dio contro il quale nulla può la risposta della dea atena di fronte a questa povera ragazza che viene carpita dai dalla sete insaziabile del dio degli oceani è quella di trasformarla in un mostro i miti infatti ne raccontavano che atena l'avesse punita perché avesse usato profanare il suo tempio infatti era vietato fare cose del genere o altri miti ancora dicono che l'avesse punita perché era troppo bella e la sfidava in bellezza ma vorrei concentrarmi soprattutto sul mito della punizione perché medusa viene punita per qualcosa che non ha fatto e si ritrova a diventare un mostro e quindi l'obiettivo di giovani e tanti eroi per mettersi alla prova eroi come perseo un mostro che verrà poi ucciso da perseo solo per vincere una scommessa con il re di serifo polidette perseo infatti arriva dove c'è medusa le recide la testa e poi utilizzerà la sua stessa testa per lungo tempo come arma in quanto non aveva perso il potere di pietrificazione che contraddistingueva questa creatura ed ecco che medusa continua a essere una vittima degli eventi uno strumento tra le mani di dei e uomini da grandi poteri con l'unico peccato commesso di esistere e niente più ovviamente questa è solo una sfumatura e se vogliamo una romanticizzazione del mito ma interessante vedere come questa versione specifica e in particolare l'attenzione alla vittima che è medusa ha preso sempre più piede al giorno d'oggi sempre più persone vedono in medusa gli stessi traumi passati ed ecco che medusa che un tempo magari poteva adornare un'anfora o un basso rilievo finisce per adornare i corpi di molteplici donne che sono sopravvissute a episodi di violenza sessuale come la stessa medusa ed ecco che la punizione di atena non è più una punizione ma è una donna che cerca di proteggere un'altra donna donandole uno strumento necessario per difendersi dalla brama degli dei e per renderla diciamo meno appetibile ora chiaramente questa visione potrebbe essere poco apprezzata da chi cerca magari una maggiore coerenza col mito classico e io trovo molto interessante questo perché da fine i miti per cosa nascevano nascevano perché le persone avevano da dire qualcosa nascevano perché le persone avevano da avvisare gli altri di qualcosa volevano insegnare una lezione magari insegnare concetti ampi complessi astratti o esaltare le capacità di un popolo di un posto ma lo facevano in un modo che potesse essere compreso un po da tutti e non solo da chi era particolarmente ferrato nella dialettica e effettivamente quello che succede anche questo mito viene presa una storia le viene dato un significato e viene raccontata io credo che sia meraviglioso che una persona una creatura una donna che è stata una vittima negli eventi per molte moltissimo tempo nelle storie raccontate da migliaia da milioni di persone all'improvviso acquisisce una sfumatura diversa e per questo motivo divenne protagonista della sua storia diviene una donna forte una donna che ha subito un torto ma che le ha dato uno strumento per difendersi e per quanto possa non avere un lieto fine vive ancora nella mente sui corpi di migliaia di donne curiosamente esiste un altro personaggio che ha subito un percorso simile nell'immaginario comune di oggi ed è il personaggio di asterio il minotauro figlio di minosse anche il minotauro è un personaggio che spesso viene introdotto come sassolino lungo il percorso di un eroe in questo caso ovviamente stiamo parlando di teseo il dio del labirinto che deve affrontare il minotauro fidandosi all'interno del dedalo grazie al filo di ariana ma a differenza di medusa il minotauro talvolta vede anche la propria origine all'interno del curriculum scolastico dei studenti infatti si narra che il re di creta minosse aveva fatto una promessa il dio posidone sempre lui in mezzo di sacrificare questa bellissima bestia questo toro bianco che gli era stato dato il dono apposta per quello ma il re mosso dalla avidità di voler mantenere questo capo e farlo accoppiare con gli altri suoi buoi decise di sacrificare la bestia meno bella e allora il dio posidone per punirlo fece invaghire fortissimo la regina la moglie appunto di minosse pasifai dello stesso toro e pasifai pasifai non so come si dice tramite un sistema di specchie leve finirà per riuscire a giacere con questo toro e dall'unione mostruosa e proibita di queste due persone persone di queste due creature nasce appunto a stereo il minotauro e a stereo viene chiuso nel labirinto costruito da dedalo che tra l'altro era lo stesso che aveva costruito il sistema di specchie leve per pasifai quindi è molto interessante e questo stereo viene chiuso in questo labirinto perché è un mostro perché questo bambino con la testa da toro ricoperto da pelliccia con la coda e gli zoccoli che ha una forte tendenza alla violenza all'ira e che si ciba di esseri umani e minosse per punire un altro popolo chiede un debito chiede dieci giovani che vengano mandati ogni anno per saziare la fame del minotauro all'interno del dedalo ed è qui che fra i dieci volontari si trova appunto teseo che andrà a uccidere minotauro e poi affronterà e adesso della sua storia no con l'abbandono di reana le vele bianche le vele nere tutto il resto e anche in questo caso notiamo una similitudine fra il minotauro e medusa anche in questo caso a stereo perché viene chiamato in questo modo non è che una vittima dei venti si parla di una creatura che nasce a seguito dell'avidità di un uomo della rabbia di un dio della lussuria di una donna e che non ha fatto niente se non nascere paga il debito di essere ciò che è e dall'inizio alla fine della sua storia non ha il ruolo di protagonista ma solamente quello di antagonista di un sassolino sul passaggio di un ostacolo da superare per affermare la forza dell'eroe di turno e tantissime persone si sono quindi immaginate a stereo questo ragazzino chiuso nel labirinto lontano dalla madre e lontano da un padre che l'ho sempre odiato per ciò che rappresenta che volge lo sguardo non verso le pareti infinite del 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 alo ma verso l'alto l'unico punto di fuga e vede le stelle e quindi l'immaginarsi di questo piccolo minotauro che volge lo sguardo alle stelle chiedendosi quale sia il suo posto al mondo chiedendosi cosa sia l'amore chiedendosi dove sia sua madre e chiedendosi perché debba fare tutto questo è motivo di cordoglio per tantissime persone ed ecco che sono nate poesie ecco che sono nati fumetti corti ecco che sono nate idee che sono le storie in cui a stereo finalmente può occupare il posto del protagonista in cui dopo migliaia di anni di essere una creatura associata alla parte più istintiva bestiale dell'essere umano appare anche nella divina commedia no che deve rappresentare la rabbia e l'istintività dell'essere umano che viene sconfitta dalla ragione che virgilio dopo tutto questo finalmente ha il suo ruolo da protagonista finalmente è libero dal suo labirinto ecco io volevo semplicemente dire questo adoro che le persone siano in grado di fare questo adoro che le persone siano in grado di empatizzare con degli esseri mitologici di finzione immaginari nati dalla mente singola o collettiva di migliaia di anni fa perché siamo abituati a pensarci talmente tanto diversi dalle persone che vivevano in quei tempi da non renderci conto che l'uomo è sempre stato uomo che l'umanità è sempre stata umanità magari può cambiare la tecnologia magari può cambiare alcuni aspetti la percezione che abbiamo determinate cose nella vita ma fondamentalmente siamo gli stessi persone che cercano di esorcizzare le proprie paure con dei racconti che vogliono elevare i propri sentimenti e persone che vogliono fare del bene e persone che empatizzano con una ragazza spaventata e un ragazzino abbandonato chi può dire che queste interpretazioni non vadano bene magari da un punto di vista storico possono non essere particolarmente veritiere possono essere particolarmente coerenti ma d'altronde come ho detto una storia nasce per veicolare un messaggio per veicolare un emozione e se queste nuove varianti della storia riescono a farlo perché no grazie mille per avermi seguito in questo mio vaneggiamento di una ventina di minuti mentre aspetto che la mia vita venga spinta da da un sicario fuori dalla casa ci vediamo presto buona 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 buona